buongiorno a tutti amici di youtube oggi è domenica no oggi è sabato 29 aprile siamo in ritardo con la posa dei melari ma non li metteremo nemmeno oggi perché domani danno pioggia e anche lunedì quindi credo che mercoledì poseremo i melari ora andremo a vedere come stanno dei nostri famigliari faremo un rapido giro veloce qualche uovo è nato qualche uovo si qualche arma cresciutella dicono che è pronto per la posa del melario quando imbiancano il sopra andiamo a vedere come sono messe il telaio sfonda adesso apriremo la prima assieme le altre poi risparmiamo andremo magari stranico cosa di interessante ci soffermiamo un attimo in qualche punto poi invece insieme andremo a vedere bene la rossa che quella che ha creato nuova e tra l'altro ma la regina è lì per nascere così prima si fanno nella loro scuola se andiamo a vedere come sono le api controlliamo bene da non trovare sorprese dice le reali e basta tutto oricolo che dobbiamo fare tutto per tutte le casse apriamone con delicatezza anche questo fatto leggero fatemi sapere nei commenti se vi interessa un bel video in cui facciamo vedere proprio da vicino tutta l'arne nel suo particolare spessori i fogli cerei e ricordatevi di iscrivervi del canale è molto importante per i futuri video si dovrebbero incominciare i telaio più diciamo interessanti più state calmi quando le aprite da parlare una cosa sbagliata ma per dovere di cronaca già poi cominciamo a vedere che l'aria piuttosto folto sempre abbastanza vuoto direi vediamo l'inducicanza del mettere ricordiamoci le priorità ore ora per verificare che abbiano cibo eccoci amici nella regina mi trova su questo telaio ora voglio farvi vedere come si fa se volevamo essere sicuri che non ci siano cupolini o vogliamo dare un occhietto al telaio senza verso le api e prendete il telaino mi raccomando contro la prima che non ci sia sulla regina due colpi sotto vedete l'unico problema di questa tecnica diciamo che se c'è qualche mettere in giro lì guardate stiamo beccando la nascita di un'ape proprio si sta appena appena prendono pericolo vedete che è nato in giro lo vedete su quest'occhio di questa ape sulla sulla vedete il luccicchio e il miele che va in giro utilizzando questo metodo un po invasivo infatti non lo so mai era solo per farvelo vedere vi faccio vedere anche da vicino la covata opercolata la covata un po più fresca in ettare così chiaramente si riesce a vedere meglio se c'è qualche cupolino qualcosa che non va diciamo che stiamo andando bene ci vediamo eccoci ragazzi stiamo andando avanti adesso abbiamo fatto il cambio di operatore abbiamo trovato qui zero cupolini qui un 45 cupolini abbiamo trovato la regina non colorata adesso stiamo cercando se la troviamo la regina di questa qui gialla della pecola e niente appena la troviamo della facciamo vedere eccola ragazzi hanno trovato la queen questo qua è il nucleo dell'arne da cui abbiamo preso i tre telaini per fare la nuova famiglia che tra poco andiamo a vedere e direi che stanno alla grande sono molto numerosi non sembra nemmeno c'è si è nata poco che ne mancano veramente molto molto tutto ci vediamo all'ordine rossa ragazzi direttamente all'orto via bene ragazzi che c'è un pezzo forte della giornata andiamo a vedere come sta in giro abbiamo sempre un po di api morti che l'altro se non essere l'altra volta probabilmente fu chi che non sento pace di volare non c'è cercato un po sui vari formi ho visto che può essere quando la regina fa il volo di fecondazione ma regina non è ancora nata boh 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 andiamo alla fede ricordiamoci che abbiamo creata abbiamo messo qui tre telaini orfani che cazzo stavano facendo queste api la battaglia dei samurai che cavolo stavano combinando no abbiamo messo qui tre telaini orfani circa due settimane fa abbiamo visto sabato no domenica abbiamo scelto abbiamo scelto abbiamo scelto la regione andiamo un po a vedere come sta la nostra cella reale se dovessero agitarsi tiriamo qua il fumo un'altra volta erano abbastanza tranquille avete consigliato anche di stringerli un po adesso vediamo guardiamo se nel frattempo stanno sostenendo altri popolini o se hanno capito che hanno quello lì pre scelto mi pare che era su questo telaio giusto ragazzi un po come gli statali sembra che fanno tutte ma magari stanno solamente girare attorno a se non le uccide quasi cominciano ad arrivare però ormai sono tutte nate quelle opercolate che avevano messo dentro poi dovremmo comprare chiaramente un marcatore di regine perché non l'abbiamo ancora ma ci serve cominciamo a far funzionare questa cosa di far nascere le regine nuove senza doverle comprare ragazzi siamo alla svolta dell'orto bio questo sarebbe pesante no ci sono ancora della covata che deve ancora nascere molto diminuita qui c'è un nuovo cupolino questo è anche che l'altra volta non l'avessimo visto un altro richiuso il nostro era nell'angolo sinistro non l'abbiamo visto dietro uno aperto lì andiamo a vedere anche in mezzo qua dovremo muovere il nostro cupolino prescelto eccolo lì eccolo qua ragazzi sta facendo le varie fasi della metamorfosi bene se andiamo a eliminare l'unità ve li faccio vedere volevo portarlo piena per vedere come ha detto di lasciarla dentro la pappa reale che la mangiano si volevo analizzarne uno ma questo è un'altra prossimamente faremo anche tutto il video completo della raccolta dei menari della posa dei menari quindi di parati di vestire del canale per non ricorderli se vi interessa il mondo delle api noi ve le facciamo vedere da vc va bene ragazzi per questo video è tutto quanto ora ora ci rivedremo mercoledì che probabilmente poseremo i menari nel apiario principale mentre qui all'orto bio riportiamo riporteremo anche la appena nascita la regina la riporteremo la probabilmente o di notte o il mattino presto perché sennò le bottinatrici che sono in giro per la zona quindi ragazzi per oggi è tutto ci vediamo al prossimo grazie